Buonasera a tutti ragazzi Allora Innanzitutto buonasera Insomma video un po' serale tardi Però fa niente ragazzi Adesso c'è la partita Iscrivetevi a sto cazzo di canale Qui, ti iscrivi qui Qui metti like per favore Così facciamo vedere a youtube la voce Del canale, che c'è il canale Con 60 iscritti innanzitutto vi devo ringraziare Per i 60 iscritti raggiunti ragazzi Veramente Ci stiamo muovendo e finalmente Insomma finalmente Sto vedendo Ci stiamo crescendo piano piano Anche se molto molto lentamente fa niente Sono contento lo stesso Detto ciò ragazzi Allora formazione di stasera Formazione di stasera Dovrebbe giocare Gigio tra i pali Lo sappiamo ormai sempre Gigio io da te oggi Voglio La solita partita La solita presezione Che ormai Cioè hai fatto un gioco con i piedi Cazzo domenica Che veramente Se c'era lo stadio Facciamo un buato Pazzesco Ragazzi Siamo pieni di fortuni Vi devo dire la verità Siamo pieni di fortuni Siamo secchi di Difensori centrali E questo diventa un problema Ma C'è da dire anche Che abbiamo trovato una scoperta Che si chiama Per Calullo Ragazzi Questo giocatore Sta davvero Fare bene Il centrocampo Difensivo Insomma In difesa Centrocampo Scusatemi E Proprio bravo Bravo Anche se lui Di origine Proprio In telzino Destro Quindi insomma Però Magari chissà Che potrebbe essere Un difesore centrale Adattato Quindi la difesa Dei centrali Sarà composta Da Capitano Romagnoli E Calulu A destra Da dove abbiamo detto Giocherà Calabria Mamma mia Davide Veramente Ultimamente Tanta tanta roba Teo Hernandez Io voglio vedere Un motoscafo Che vada qui Sulle vie di Genova Sbocca Sbocca sul mare Proprio Minchia E bagna Tutta la città Proprio In modo che dicano Quelli che sono Ancora in zona gialla Ma diranno Ma che cazzo è Che cazzo è Tutta sta roba qua Che Chi è che Fa un tsunami Addosso alla città Proprio In modo che fai capire Che Sei arrivato Proprio E dopo Li trappani Anche la rete Veramente Guarda Oggi mi devi fare Un altro gol Perché l'altro giorno Mi hai fatto veramente Godere In un modo incredibile Mamma mia Se nello stadio Mi tuffavo Direttamente A bordo campo Assurdo Vabbè Tanta tanta roba Veramente È stata una partitona Vabbè A parte che Ai stadi non si può andare Partiamo da questo presupposto Ma se c'era la possibilità Ovviamente Non voglio Immaginarmi Che cosa è Uscito fuori Vabbè I due centrali Anche qua Diciamo Benasser Anzitutto auguriamo Buona guarigione A Benasser E anzi Anche a Gabby Ragazzi Perché comunque Rimanere senza secco Non sarà Una cosa facile Quindi a centrocampo Avremo Tonali Da un lato Dall'altro lato Dovrebbe giocare Appunto Che si Sperando ovviamente Che mamma mia Infortuni Non arrivino più Io Non ne posso più Sono pieno Di infortuni Ovunque Guarda ragazzi Adesso diventerà Un po' Davvero difficilissimo Da adesso Importante Arrivare da adesso Fino a Natale Perché poi dopo Quando rientreremo Rientreremo con la carica Già riposati Tutto quanto Dopo le feste natalizie Quindi Innanzitutto Poi vi porterò Anche il pagellone Questi sono altri discorsi Centrocapisti avanzati A sinistra Dovremmo avere Appunto Hauge Dovrebbe essere Hauge Ho visto la formazione Ma poi vedremo Cosa sceglierà Pioli Se sarà lui Che Comunque Fa Secondo me Ottima scelta Sinceramente Ragazzi Quindi Ottimo Dovrebbe giocare Dipende C'è un balottaggio Tra Abraham Diaz Come regista E Charanoglu Ragazzi Però Penso che alla fine Giocherà Akan Charanoglu Selemakers Dicono Selemakers Alcuni Selemakers Alcuni Castieco Anche lì A destra C'è un balottaggio Tra chi Potrebbe giocare Tra Castieco Insomma Anche qui C'è da vedere Questo balottaggio E poi dopo Ragazzi Sinceramente Davanti Ibra Dovrei giocare Ibra 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 Ragazzi Insomma Anche qua C'è da dire Che Spero davvero Di entrare con Ibra Che siamo ancora primi Perché io penso Che possiamo Vincer Genova Ragazzi Sì Possiamo andare A vincere Genova Anche con la Lazio Anche con Sassuolo Possiamo vincere Tutte queste tre E rimanere lì Per Natale Io voglio il primo posto Per Natale Cazzo Dobbiamo fare vedere Agli altri Che cazzo siamo Veramente Non ne posso più C'ho i coglioni pieni Guarda ragazzi Vi dico proprio Così Non me ne frega un cazzo C'ho le palle piene proprio Di tutta sta storia qua Dei meno tre Fa niente ragazzi No Non ce ne frega Nulla degli altri Noi guardiamo Noi Innanzitutto Noi siamo primi Con meriti Noi siamo in Europa Con fronte degli altri Che ha fatto la vergogna D'Italia Ma Un applauso Ai nostri Anzi Non sono neanche I nostri cugini La terza Quarta squadra Di Milano Che è riuscita A prendere il treno Per la Coppa Italia Complimenti Bravissimi Ottimo E adesso Niente ragazzi Da un lato Vi dico la verità Sulla formazione Sulla formazione Io Avrei fatto giocare Avrei tenuto fuori Calabria Ragazzi Avrei fatto Entrare a destra Da lot Vi dico la verità Perché comunque Insomma Io da lot L'avrei fatto Appunto giocare A destra Perché comunque Tu giochi domenica Con Sassuolo Poi c'erano due partite Davvero difficili Con Sassuolo E con E con la Lazio Non mettendo in dubbio Ovviamente Che questa Non sia una partita Difficile Ma di sicuro Anche le altre Non scherzano Specialmente Quelle due lì Poi una volta Tornati Tassuolo Natalizia Avremo Torino Avremo la Juventus Con chi non abbiamo Giocato Forse il Bene Veneto E Atalanta Atalanta No Abbiamo giocato Con l'Atalanta Sì Atalanta tra l'altro Anche l'anno scorso Era sempre Era prima di Natale Ragazzi Quindi insomma Ah E auguri al nostro Milano Ragazzi Che fa 121 anni Tanta tanta roba Veramente Auguri al nostro squadro Che oggi Compleanno Di 121 anni Il 16 dicembre 1889 L'anno di fondazione Di questi bellissimi colori Che sono fantastici E' passato un sacco di tempo Ma pieni di storia Dietro E speriamo Anche in futuro Vedo questo Ci sentiamo Col post partita Innanzitutto Lasciatemi un commento Qui sotto Ditemi la vostra E Speriamo che Vabbè Luca Dozzelli Che tra l'altro Saluto Speriamo che non si incazzi Per appunto Lo sfotto che ha fatto Con l'Inter Ma Non è venuto proprio Da dentro Quindi vabbè Ci sta lo sfotto Ragazzi Però bisogna avere Un certo limite Non bisogna esagerare Quindi Cioè Bisogna anche rispettare Le altre ogni tanto Anche se ovviamente Vabbè Io facerò con Rubentus Quelli lì Che non mi ricordo Quelli di Torino Piccoli bianchi Pedonati Che non mi ricordo mai Come si chiamano Vabbè Dai ragazzi Detto questo Vabbè Ci sentiamo Dopo colpo spartita Ciao